intanto vi saluto vi ringrazio di essere venuti perché siete qui presenti poi chi ci segue da casa ci raggiungerà insomma con un comodo tanto mi presento io mi chiamo matteo sono membro dell'associazione sotto sopra e ringrazio anche i soci che gestiscono questo bellissimo spazio che ci hanno invitato ci hanno chiesto di organizzare alcune iniziative su diciamo di approfondimento su argomenti di attualità di politica anche che noi facciamo spesso volentieri organizziamo a milano ogni anno cerchiamo comunque di tenerci aggiornati su quello che succede invitando ospiti che studiano che si occupano di queste di questi argomenti quest'anno per questo ciclo abbiamo previsto tre incontri oggi appunto con pier luigi fagan che ci ha raggiunti apposta pensate da dalla capitale pensate con le meraviglie tecnologiche della nostra ferrovia e avremo anche altri due incontri ad aprire uno l'uno aprile con nadia garbellini dove ci soffermeremo su diciamo aspetti economici dei dei recenti sviluppi storici e mentre con fulvio scaglione che è un giornalista il 15 di aprile parleremo di tutti quei temi legati alla libertà di stampa e alla libertà di espressione e come appunto vengono influenzati dalle vicende che ci travolgono. Ora l'argomento di oggi brevemente rubo solo qualche secondo è un pochino presentare quali sono le nuove possibili traiettorie storiche verso cui ci stiamo avviando delle quali la guerra in ucraina è un catalizzatore potentissimo effettivamente ma non nasce in un vuoto cosmico quindi fa parte di fenomeni che erano già in corso molti di molti di voi sono nati e cresciuti in un ordine mondiale che potremmo definire bipolare dove vi erano due grandi superpotenze gli stati uniti d'america con i loro alleati dell'occidente e l'unione sovietica, la Russia che occupava l'altro polo di questo ordine mentre io e molti dei ragazzi più giovani di noi sono cresciuti invece in un mondo dominato dagli Stati Uniti dopo la caduta del muro di Berlino appunto non c'era più un contraltare diciamo a questo nuovo sistema che poi abbiamo imparato a chiamare globalizzazione un sistema dove appunto l'America, il dollaro avevano un vantaggio, una capacità di incidere molto maggiore rispetto a qualsiasi altro ente economico, politico presente sulla scena ora si abusa spesso dell'espressione epoca di transizione perché ovviamente nulla è mai statico e quindi si passa sempre da un ordine all'altro eppure a me sembra appropriato in questo caso dire che noi ci troviamo in un'epoca di transizione perché anche questo ordine, questo equilibrio chiamiamolo unipolare guidato dagli Stati Uniti è destinato a trasformarsi in parte per l'emergere di nuove potenze economiche e anche politiche come quelle asiatiche e anche per tutte le nuove variabili demografiche, economiche che vanno a modificare le condizioni che avevano determinato l'ascesa e poi il dominio degli Stati Uniti. Ora io non sono un esperto di queste cose perciò passo volentieri la parola a Pierluigi Fagan che da anni si occupa di studiare questi argomenti e ci farà capire un po' meglio appunto che cosa potremmo aspettarci o che cosa almeno aiutarci a capire quello che ci accade in questi giorni, inserirlo in un quadro un pochino più preciso e forse più comprensibile. Grazie a voi di essere venuti e buon ascolto. Questo funziona? Sì, sì. Il microfono che c'è? No, no. Questo qua sì? Sì, sì. Sì. Via il cronometro perché io tendo a esondare, però mi avete dato un'ora, no? Va benissimo. Ok, pronti e via. Allora l'argomento della chiacchierata che faremo è niente proprio di meno che il mondo, il mondo e anche come noi conosciamo il mondo e quindi userò spesso un concetto che è immagine di mondo. Con l'immagine di mondo mi riferisco proprio a come noi conosciamo il mondo. Siccome il mondo è molto cambiato negli ultimi tempi, adesso ne parleremo, spesso ci troviamo col problema per cui la nostra immagine di mondo fa molta fatica a leggere il mondo a vari livelli. Però ne parleremo adesso nella nostra chiacchierata, che potrebbe avere un titolo anche più colloquiale, tipo in che mondo siamo capitati. Il mondo è molto cambiato e probabilmente molti di noi non lo sanno perché non è un argomento sufficientemente tematizzato per dire chi è nato nel 1350 si è beccato la peste nera, non è che lo sapeva prima, però è stato un evento cataclismatico che ha cambiato completamente il mondo di allora. Probabilmente secondo alcuni storici io con loro segna anche l'inizio della fine del Medioevo e l'inizio della modernità. Allora noi quando nasciamo, viviamo, siamo convinti di essere dentro un proseguio che reeditiamo dal passato, però ci sono anche dei momenti di frattura e di discontinuità storica. E noi siamo capitati proprio in un momento di questo tipo qui. Non è una mia opinione, ma è suffragato da una serie di dati che adesso vi darò a raffica. Allora nel 1950 sul pianeta Terra eravamo 2 miliardi e mezzo, adesso siamo 7 miliardi e mezzo, in realtà siamo 7 miliardi e 8 o 8 dipende dall'ufficio di statistica come fa il conteggio. Questo significa che ci siamo triplicati. Mai nella storia umana l'umanità si è triplicata in soli 70 anni, mai si è triplicata partendo da 2 miliardi e mezzo. Per cui siccome il pianeta è un contenitore anelastico, è un po' come la termodinamica con i gas, se voi continuate a emettere gas, le molecole si sbattano tra di loro e si alza il calore, si alza l'attrito. Questo è proprio i principi base della termodinamica. La termodinamica del mondo ha visto un grandissimo riempimento di umanità in un tempo estremamente breve. Attenzione, questo non vuol dire che siamo troppi, da questo non dipartano discorsi cosiddetti neo-malthusiani, è una semplice constatazione. Noi qui siamo una quarantina, una cinquantina. Immaginate, non in un tempo storico, ma in proporzione in un tempo molto breve, diventiamo 150. È chiaro che ci sono una serie di problemi logistici. Poi noi qui siamo qui per un'oretta, un'oretta e mezza a rivederci e grazie. Nel mondo non è che poi finisce la riunione, usciamoci a un altro mondo. Non solo c'è stata questa che possiamo definire una grande inflazione. Qui la inflazione è usata in termini cosmologici, come dopo il Big Bang, no? Voi siete di Milano, quando si fa il panettone, il panettone all'inizio è piccolo, poi lo si mette dentro il forno e lievita, no? E tutte le uvette si distanziano uno dall'altro. Ecco, questa è l'inflazione in senso cosmologico. Una grande lievitazione. Ecco, diciamo che il sistema umano ha subito una grandissima lievitazione, non solo a livello di individui, ma anche di organizzazione delle forme di vita associata. Quindi gli Stati, tipicamente, erano circa 60-65 nel 1950, oggi all'Assemblea dell'ONU ne siedono circa 200-205, quindi sono triplicati anch'essi. Poi sono molto cresciute le cosiddette organizzazioni multilaterali, sono circa 1500, la più nota sono le Nazioni Unite, ma ce ne sono tante e diverse, che cercano sostanzialmente di tenere un po' d'ordine a questa nuova massa lievitante. Poi ci sono le multinazionali, sia di tipo commerciale-industriale, sia di tipo banco finanziario, le grandi organizzazioni criminali, le grandi organizzazioni delle credenze organizzate, cioè tipicamente le grandi religioni, le ONG, che sono circa 15.000, che fanno supplenza di alcune attività che una volta facevano gli Stati, circa il 92% sono di origine anglosassone, vengono da quel tipo di mentalità, cioè minimizzare l'intervento dello Stato e avvalersi di buona volontà, diciamo così, privata, che sopperisce a quello che gli Stati non fanno. Quindi grandissima inflazione e lievitazione di queste che possiamo chiamare varietà, un sacco di varietà, tantissime in pochissimo tempo. Ma non sono solo aumentate le varietà, sono anche aumentate le inter-relazioni tra queste varietà. Parliamo dei trasporti, ovviamente dal 1950 a oggi sono stati fatti molti cambiamenti, soprattutto nel trasporto aereo e nel trasporto navale. Parliamo delle telecomunicazioni, chiaramente con il Big Bang in fine anni 70-80 della rete delle reti e poi tutto lo sviluppo di Internet e degli scambi commerciali, che probabilmente a molti daranno in assonanza il concetto di globalizzazione, ma tenete conto che gli scambi commerciali dal 1950 al 1973 erano già aumentati di 7 volte, mentre per globalizzazione noi intendiamo un momento specifico, quando nel 1994 venne creata la World Trade Organization che subentra a una serie di trattati precedenti che si chiamava GATT. GATT era una serie di trattati, VTO invece è propriamente un'organizzazione ed è un'organizzazione che può elevare anche delle multe a degli associati se non rispettano alcuni regolamenti. Ma la cosa più importante dopo il VTO è stata la liberazione e la circolazione dei capitali, perché sostanzialmente a livello di scambi commerciali c'è un po' un continuum, anche se in crescendo, mentre quello è stato un momento dichiaratamente di svolta. Naturalmente quando in un sistema, io parto da, poi dopo magari vi dico anche brevemente cosa state ascoltando, da che punto di vista ve lo dicono, perché è importante entrare nella sala macchine del pensiero appunto dell'immagine di mondo, la mia in parte è formata sulla cultura sistemica e della complessità. Allora un sistema è fatto di parti in interrelazione e quindi siccome il sistema umano ha avuto una lievitazione delle parti, una lievitazione e una complessificazione delle interrelazioni, ci troviamo davanti a un fenomeno completamente nuovo. Il mondo è un fenomeno completamente nuovo. Il terzo fatto rilevante, sono solo tre, è che dentro questo movimento, soprattutto negli ultimi 40 anni, prima con i processi di decolonizzazione e lo sbembramento finale dei grandi imperi europei, poi con i processi di indipendenza di molti stati, ma poi soprattutto con la decisione pilotata da un cinese, Deng Xiaoping, che subentrò dopo Mao e portò una grande novità, che era quella di dire che non importa se il gatto è bianco o nero, l'importante è che prenda il topo a dire che noi dobbiamo crescere, dobbiamo progredire, dobbiamo produrre ricchezza. Se l'economia moderna, che alcuni chiamano capitalismo, poi magari vediamo un po' il perché per come di un termine piuttosto che per l'altro, comunque se l'economia moderna, cioè sostanzialmente scienza tecnica, capitale e mercato ci può aiutare, perché no, incominciamo a fare anche noi questa cosa, zone economiche speciali, eccetera, eccetera. E da lì è incominciata la crescita del gigante cinese che poi entra nel VTO nel 2001, tre mesi prima delle torri gemelle. È stato calcolato che se, naturalmente i cinesi poi fanno da capofila alla crescita indiana, al sud-est asiatico, sapete lì c'è un'associazione che si chiama ASEAN che raccoglie 11 paesi estremamente vivaci dal punto di vista commerciale, ma anche grande parte del resto dell'Asia e poi di recente anche l'Africa e il Sud America. Ora, tutto questo mondo, che è l'85% del mondo, perché noi, tutta l'Europa, non l'Unione Europea, tutta l'Europa più l'anglosfera e quindi Gran Bretagna, Stati Uniti, Canada, Nova Zelanda e Australia e Stati Uniti d'America, ovviamente noi all together facciamo il 15% del mondo, quindi quando sentite parlare che il mondo ha detto, il mondo ha deciso, il mondo di qua, il mondo di là, traducete il 15% del mondo ha deciso, ha fatto, ha pensato che. Tant'è vero che nelle materie che si frequentano, quest'altra parte viene ancora chiamato il resto del mondo, il resto di solito sono gli spicci, mentre qui insomma sono 85%, quindi forse ci dovremmo dare un po' una svegliata. Ad ogni buon conto è stato calcolato che se il resto del mondo volesse vivere secondo lo stile di vita americano, sarebbero necessari 5 pianeti, che in tutta evidenza non abbiamo. Se tutto il mondo accettasse di vivere come l'India, il pianeta basterebbe e avanzerebbe. Problema, molto difficile convincere americani e anche europei a vivere all'Indiana, ma sta diventando molto difficile convincere anche l'85% del mondo a non aspirare legittimamente alla propria crescita. Senza arrivare allo stile di vita americano, comunque ogni incremento di questo 85%, che è molto massivo dal punto di vista numerico. Tenete conto che l'Asia da solo ha lo stesso numero di Stati dell'Europa e fa il 60% della popolazione mondiale, quindi solo l'Asia è 4 volte l'Europa, pur avendo lo stesso numero di Stati, dal che se ne deduce un certo nanismo dei nostri Stati. I nostri Stati sono i più antichi, Stato-Nazione da questo punto di vista e concettualmente nascono nel 500-600-700 e sono anche organizzati rispetto alla geostoria, quindi la storia è incrociata col territorio. A Spagna perché ci stanno i Pirenei, in Italia ci stanno le Alpi, poi nel tempo questo deposita una certa omogeneità di popolazione e via discorrente. Quindi noi in Europa abbiamo a che fare con un fenomeno Stato-Nazionale molto particolare, perché noi abbiamo il 25% degli Stati del mondo, pur essendo solo il 6% del mondo. Quindi magari non noi grandi Stati come l'Italia, la Francia, la Gran Bretagna e sicuramente la Germania, ma insomma molte altre realtà, legittimamente dovrebbe anche domandarsi quanto siano adeguate adeguate a questa condizione di mondo, perché erano adeguate alla condizione del mondo di quando sono nate nel processo storico, 700-800 che fosse, o addirittura 600, quando il mondo era sostanzialmente l'Europa. Oggi il mondo è il mondo. La caratteristica più importante di quello che vi ho detto è proprio la mondializzazione, ma prima ancora che globalizzazione, si è venuta a creare per la prima volta un mondo. La Terra c'è sempre stata, ma a livello di umanità e di interrelazione, di tessuto tra tutte queste realtà, questo è un fenomeno estremamente recente. Quindi nell'esempio che vi facevo sugli stili di vita si determinano tutta una serie di conflitti e di contraddizioni. Ora vado a fare un rapido elenco di mal di pancia sostanzialmente di temi. Ognuno di questi andrebbe approfondito in maniera sistemico complessa e altrimenti rimane un titolo vago. Non ne abbiamo tanto il tempo, quindi aprirò delle finestre. Le cascate dei problemi riguardano per esempio le questioni virali, virologiche. Allora, nel 1998 l'Associazione Internazionale dei Virologi si riunisce e dice, attenzione perché qui i prossimi duecenni noi corriamo grossissimi rischi con i coronavirus, questo nel 1998. Ne spuntano due, uno in Cina che viene prematuramente, no prematuramente, insomma in tempi rapidi viene verificato, si interviene, viene tutto isolato e quindi non va in giro per il mondo. L'altro invece ha fatto il salto di specie in Arabia Saudita. Ha pizzicato due svedesi, sono arrivati in Svezia, l'hanno ricoverato, insomma pure lì. In realtà questo fenomeno, che è il fenomeno della zoonosi, ha rapporto con tutto quello che vi dicevo, perché per esempio abbiamo scoperto facendo gli scavi archeologici in Mesopotamia che nel Mesolitico, cioè prima del Neolitico, quando le popolazioni hanno incominciato ad addensarsi e molte hanno incominciato l'allevamento e quindi a vivere con gli animali, si sono manifestati appunto le prime zoonosi. Dopodiché i cinesi, che sono tanti, sono un miliardo e quattro, hanno città come Wuhan di 11 milioni di persone e questo è un secondo bacino di replicazione. In più con la globalizzazione gli hanno messo un aeroporto internazionale, quindi il virus ha preso l'aereo, è arrivato a Monaco di Baviera. Questa è una delle versioni, non necessariamente forse quella più precisa, però ci serve per far capire come anche un fenomeno del genere, che ha avuto un impatto decisivo in qualche modo, fa parte del quadro che abbiamo dato in precedenza. Arriva a Monaco di Baviera, rapporti commerciali tra Monaco di Baviera e la Bergamasca e da lì poi inizia il pasticcio. Come la globalizzazione ha fatto sì che ci fossero aree specializzate in certe produzioni, per cui tutte le mascherine stavano in Asia, tutti i respiratori polmonari stavano in Asia. Questo per dire quanto poco siamo adeguati alla fenomenologia del mondo, nel senso che la logica della globalizzazione, sì certo le mascherine hanno un costo molto basso, richiedono un costo di lavoro molto basso, però poi che succede se esce fuori una zoonosi e tu hai le mascherine in Asia, che poi tra l'altro servono agli asiatici, e soprattutto cosa facciamo noi per cercare di tenere sotto controllo questo tipo di fenomeni, perché sapete che poi le pandemie agiscono attraverso le interrelazioni, quindi noi dovremmo avere dei rilevatori in vari ospedali del mondo in cui le polmoniti, che poi sono l'effetto principale che viene prodotto, quando arrivano in grande numero fuori dalle statistiche, dovrebbe accendersi un red alert e andare a verificare lì che cosa succede. Questo solo per fare un esempio, ma i problemi poi si moltiplicano ovviamente, problemi economici poi ne parleremo perché è un argomento troppo grande, di tipo finanziario, di tipo anche valutario, perché chiaramente veniamo da un mondo che è dollaro centrico, mentre invece queste nuove realtà chiaramente vorrebbero partecipare alla formazione di una valuta quantomeno neutra, cioè non di una valuta statale in mano ad uno Stato. Come peraltro si era discusso agli albori nel 1944-45, quando si riunirono in una vidente località americana che si chiamava Bretton Woods e il delegato inglese, che poi era John Maynard Keynes, avanzò l'idea di mettere una valuta che non fosse la valuta di uno Stato, ma era una valuta contabile, il Bancor. Per la verità presentò pure un sistema bellissimo, fatto in maniera tale che gli scambi commerciali non diventavano accumulo di ricchezze di qualcuno a scapito di qualcun altro, perché poi a seconda degli scambi a fine anno c'era tutto un ripareggio delle partite, per cui se io avevo importato più da te ti restituivo un po' di soldi o ti ricompravo altre cose. E questo chiaramente era fatto in una logica termoregolatoria, cioè di tenere il mondo, non in una competizione continua che poi crea nei vari paesi tutta una serie di mancanze, eccetera. Comunque non se lo filò nessuno, vinse l'altro delegato che era White degli Stati Uniti d'America, perché avevano vinto la guerra e quindi decidevano loro. Oggi si va incontro a nuovi conflitti dal punto di vista valutario. Poi c'è tutto il capitolo ecologico-climatico, di cui magari parleremo dopo. Su queste cose sarebbe molto importante approfondire le conoscenze, perché purtroppo a livello, diciamo così, uso un termine non mi piace molto, mainstream, comunque l'approfondimento è nullo, però ahimè anche l'intelligenza critica certe volte va appresso a delle grandissime semplificazioni, a delle mancanze di conoscenza terrificante, per cui c'è gente su Facebook che dice che la CO2 non è un veleno, ma chi ha mai detto che un veleno crea l'effetto Serra, non è che un veleno di per sé, però vai a spiegare l'effetto Serra e ti mettono zichicchi e tu rimani così, perché insomma se questo è il livello diciamo così della cultura critico alternativa che usiamo per mettere in discussione certi fatti, stiamo messi piuttosto male. È saltato il cronometro, pazienza. Cos'è non dare? No, no, ma tanto insomma, ho il format. Quindi adesso vado avanti, attenzione perché tutte queste cose che dico meriterebbero un grande studio approfondito e questo è uno dei grandi problemi che abbiamo, non solo dell'approfondimento di tutti questi capitoli, ma anche la loro messa a sistema, perché quando decidiamo di passare a un'ecologia ecocompatibile e poi dopo la COP, quelli degli stati tornano negli stati come è successo in Australia, Confindustria dice ma voi siete completamente matti, ma avete fatto i costi economici di che cosa significa ciò che avete firmato? Allora cosa? Poi hanno firmato e infatti poi non l'hanno fatto, perché una cosa è firmare, andare a fare la conferenza stampa di abbiamo firmato perché siamo buoni, addio mio il clima, adesso noi ce ne preoccupiamo. Altro è avere a che fare esattamente con la materia in quanto tale, che è estremamente problematica. Poi problemi ecologico-climatici impatteranno molto anche sull'acqua e ovviamente sul cibo e via discorrendo. Poi ci sono problemi demografici e migratori. Prendiamo il problema migratorio. In Africa i primi del Novecento erano in 130 milioni, noi eravamo 400. Oggi loro sono un miliardo e mezzo e noi siamo sempre 4, 450 milioni. Fra 30 anni loro saranno 2 miliardi e mezzo e noi saremo sempre 450 milioni. Loro avranno un'età media di 19 anni e noi avremo un'età media di 46-48 anni. Loro probabilmente continueranno a stare nel posto più povero del mondo e noi continueremo a stare nel posto più ricco del mondo. Di fronte a una problematica del genere, già lo sai perché le curve demografiche non sono sensibili a cambiamenti che avvengono nell'ambito dei 5, 6, 7 anni. Per cui queste cifre che vi ho dato possono essere 2 miliardi e 4, 2 miliardi e 5, 70, insomma poco importa. Questa sproporzione noi già la vediamo, già la conosciamo. Cosa stiamo facendo noi? Nulla. Il livello del nostro dibattito è tra aggiungi un posto a tavola, il buonista accogliente e buchiamo i canotti. Ma se affrontiamo a questo livello un problema di questa dimensione nei prossimi 30 anni, ovviamente si genereranno di nuovo attriti, contraddizioni e via discorrendo. Gli americani dopo la Seconda Guerra Mondiale, memori del fatto che dopo la Prima Guerra Mondiale noi eravamo molto poveri che siamo migrati negli Stati Uniti d'America, per non ritrovarsi 25 milioni di europei affamati hanno fatto il piano Marsha. Noi abbiamo l'Euro, potremmo benissimo stampare l'Euro anche perché non fa inflazione, se lo portiamo lì e fare, se fossimo bravi ovviamente, poi andremo a fare progetti di rapina come al solito, però diciamo nel migliore dei mondi possibili dovremmo fare una cosa del genere. Ovviamente non se ne parla, è un argomento proprio che è fuori dai nostri radar. Così come il problema demografico porta noi occidentali ad essere i 50 stati nella classifica, sono 204 gli stati del mondo, dal 150esimo in poi sono tutti stati occidentali per età media, cioè siamo i più anziani del mondo. Qui grava molto l'Europa specificatamente, perché non è un fenomeno che vale anche per l'anglosfera, vale molto per l'Europa, vale un po' per tutti gli stati, forse eccezione un po' dei francesi che hanno un contributo positivo di migrazione intorno al 15% della popolazione, se no altrimenti la popolazione bianca in quanto tale della Francia avrebbe le stesse caratteristiche nostre della Germania che siamo i due paesi tendenzialmente più anziani. Tanto che noi italiani nel 2050 dovremmo essere intorno ai 48 milioni, 50, che significa 10 milioni in meno, che porta a un abbassamento della spesa sociale, però porta anche a una diminuzione del PIL e tutti i problemi correlati. Ecco per esempio la non conoscenza della demografia è un altro dei problemi che ha la nostra immagine di mondo, perché in molti ambiti come incomincia a parlare di Malthus, ok ma Malthus ha fondato la disciplina nel 1820, insomma sono passati un po' di tempo, uno si potrebbe anche aggiornare, però qui c'è anche un po' la staticità delle nostre immagini di mondo che si rifanno poi a metodologie qualche volta anche a ideologie che sono del XIX secolo. Allora come ci ha insegnato la filosofia del XIX secolo, la stessa filosofia è la storia appresa nel pensiero, quindi fotografa in qualche modo una situazione di quel momento. Ecco, il mondo nel 1800 era dominato dall'Occidente e contava un miliardo di persone, oggi non è più dominato dall'Occidente e ne conta 8, fra 30 anni ne conta 10. Quindi anche i sistemi di pensiero, il modo in cui noi analizziamo le cose, le ideologie eccetera eccetera, dovrebbero tener conto che abbiamo a che fare con un contesto estremamente e radicalmente cambiato. Poi c'è il problema culturale, avrete sentito parlare dello scontro di civiltà, è un libro degli anni 90 che si preoccupava molto della convivenza con il mondo musulmano da parte nostra, ora invece abbiamo un problema pare con i cinesi, un miliardo e 400 milioni, sono circa un miliardo e sei la cultura sinica in senso allargato al di là della Cina, quindi sono tre volte noi europei e con una civiltà che è di qualche secolo più anziana della nostra, quindi c'è molto da raccontare della Cina. Io ho studiato cinese per tre anni, ma solo per orizzontarmi, non per arrivare a parlarlo, ho studiato parecchio la loro cultura, soprattutto la cultura antica, si sente parlare della Cina, credetemi, in una maniera che fa rabbrividire, cioè fa rabbrividire come il mondo musulmano, il mondo musulmano trabbo, no signore, perché poi c'è un certo tipo, sono quattro scuole giuridiche e via di scorre, comunque c'è quello africano, c'è il mondo turchico che poi si estende al centro l'Asia con i quattro stan, Uzbekistan, Tajikistan e via di scorre, Kazakistan e Turkmenistan, poi c'è il Pakistan, l'Indonesia sono 230-220 milioni di persone, insomma sono tutte storie diverse e declinazioni diverse e noi tutte queste cose qua non le conosciamo, non le conosciamo, giustamente voi non è che fate gli studiosi di mestiere, ma non le conoscono neanche gli studiosi, quello è il dramma, perché basta accendere la televisione ed è veramente sconfortante, credetemi, veramente sconfortante, ci sono delle eccezioni, François Julien per esempio che è uno studioso francese, che ha studiato profondamente la cultura asiatica, normalmente tiene i corsi anche di istruzione al management che va a fare business in Cina, perché se non conosci la loro cultura, io adesso mi sto vedendo delle vecchie serie di Star Trek e c'è problema quando arriva l'alieno che c'ha, l'altro giorno c'erano degli alieni arrabbiatissimi perché come nei film di Bunuel, loro mangiano, mangiavano al bagno in privato, no? Mangiare in pubblico era osceno, era come fare l'amore in pubblico e quindi lì ci sono questi aspetti antropologici estremamente interessanti, però chiaramente siamo spinti uno contro l'altro dentro lo stesso tipo di pianeta e c'è un problema culturale anche di conoscenza e di intermediazione con le altre culture. Così come c'è un problema tecnologico che poi ha fallout sia nel mondo civile e nell'organizzazione della società e ce l'ha anche ovviamente dal punto di vista militare, ma ne parleremo meglio magari dopo. Ha un fallout anche nella politica interna, premetto che io politicamente mi definisco un democratico radicale, per cui quella cosa che qui viene chiamata democrazia per me non è una democrazia e quindi faccio fatica a dire ah le democrazie sono in crisi, avercele. Comunque quella cosa che chiamano democrazia è in crisi secondo loro, nel senso ci sono una serie di istituti soprattutto britannici che fanno il check up dell'andamento della democrazia nel mondo e dopo la fase famosa unipolare di cui dopo parleremo brevemente, sembrava che tutto il mondo volesse o potesse diventare democratico. Ecco oggi invece sta in ritirata, questo sistema sta pesantemente in ritirata e si assiste un po' dappertutto in Occidente a una verticizzazione del potere, per cui i processi democratici ormai non si discute più di nulla, ti fa una trasmissione televisiva, arriva l'Ipsos che è un istituto, io ci ho lavorato, io vengo dal mondo del lavoro prima di essere uno studioso, ma comunque molto serio e ti dice il 56% degli italiani è contrario a inviare le armi e poi tutta la puntata è su quante armi inviamo, allora abbi pazienza, ma se mi dici chi è, no? E poi non è che me l'ha detto l'antidiplomatico, insomma, l'ha detto Pagnoncelli. E però nessuno, voglio dire, neanche la contraddizione esce sui giornali, no? Se provi a dire diversamente se sei un sabotatore, se sei un filo russo, eccetera, eccetera. E chiaramente se questo è il livello, insomma, la democrazia, carissimo amico. E finalmente poi arriviamo ai problemi di politica internazionale che sono studiati da due discipline, che non si sa perché sono due discipline, ma in teoria hanno lo stesso oggetto, cioè le relazioni internazionali e la geopolitica. Io sono un po' conosciuto come geopolitico critico, ma in realtà coltivo un'altra disciplina di cui poi vi parlerò, che è appunto la mondologia. I prossimi 30 anni sappiamo che su molti di questi temi porteranno avanti determinati tipi di curve. Certo, il problema climatico non migliorerà, il problema ambientale neanche, il disordine economico neppure, la frizione geopolitica dovrebbe incarognirsi sempre di più. E quindi tutte queste cose noi le sappiamo. E quindi il primo scatto, la prima differenza sarebbe quella di porsi i problemi nella loro giusta prospettiva. Avete visto, io ho parlato di 70 anni fa, adesso parliamo di fra 30 anni. Alla fine di questi 30 anni, ripeto, saremo poco meno di 10 miliardi, quindi ci saremo quadruplicati in un secolo. E quindi i problemi che già sentiamo adesso, triplicati, allora saranno ancora più vivi, ancora più massivi. E la parte che deve ancora arrivare viene tutta dal resto del mondo, ovviamente non dalla parte nostra. Noi nel 2050 saremo all together, Europa con Anglosfera, saremo il 12-13% del mondo, l'Unione Europea peserà per il 6% e saremo sicuramente la parte più anziana. Vi cito adesso una previsione fatta da un istituto che è la PricewaterhouseCoopers, che con McKinsey sono i due principali istituti internazionali che si occupano di economia e finanza internazionale, consulting management e bla bla bla, ma più o meno le stesse previsioni le fa anche Credit Swiss, First Boston, Deutsche Bank, HSBC eccetera eccetera. E cosa dicono? Dicono che nel 2050 per PIL a parità di potere d'acquisto, il primo paese sarà la Cina, poi l'India, poi gli Stati Uniti, poi l'Indonesia, quarto paese, poi il Brasile, poi la Russia, qui la Russia sta, in questa ricerca è stata fatta tre anni fa, quindi probabilmente non ci sarà, ma insomma Messico, Giappone, Germania e UK, quindi l'Occidente conterà quattro Stati su dieci, ma tre saranno nelle ultime tre posizioni, i francesi mi sembra al ventesimo posto, noi al venticinquesimo. Queste sono le previsioni del fatto che quando applicate i principi dell'economia moderna, cioè scienza tecnica, capitale e mercato, la variabile demografica diventa molto importante, perché chiaramente determina anche nella storia del cosiddetto capitalismo, tra Genova, Firenze, Anversa, Amsterdam, Londra, cioè Inghilterra, poi diventa Gran Bretagna, poi diventa Regno Unito, 1710 diventa, da Inghilterra diventa Gran Bretagna, 1801 diventa Regno Unito, poi Stati Uniti d'America e le prime grandi imprese americane che portano contabilmente il PIL americano a superare il PIL britannico dipendevano da questo, da un grandissimo mercato interno, quindi quando applicate questi principi all'Asia, all'India, alla Cina, non è che c'è da farsi una grande conferenza di economisti per capire che ovviamente diventeranno delle potenze economiche, poi come, specializzate in che cosa, con quali meccanismi, è tutto da vedere, però insomma non c'è nulla di particolarmente straordinario in tutto questo, né ci sono variabili nascoste che possano dire, ah sì, vabbè, però queste previsioni non tengono conto di, certo, scoppia la terza guerra mondiale, chiaramente c'è una perturbazione generale, però insomma, c'è risparibus a parità di condizioni, più o meno questi sono gli andamenti, ecco questo è il mondo nel quale vivremo per i prossimi trent'anni. E termino così la prima parte, che ci dice che cosa? Che in un tempo estremamente ristretto c'è stato un cambiamento multidimensionale estremamente profondo, questo genera un problema che si chiama adattamento, adattamento si dice in due modi, io cambio per andare d'accordo con o cambio ciò con cui devo andare d'accordo per andarci più facilmente d'accordo. Noi esseri umani per esempio abbiamo molto modificato il fuori di noi, no? Per facilitarci in qualche modo l'adattamento, però poi abbiamo avuto anche le nostre traversie dai cacciatori raccoglitori, poi all'utilizzo dell'agricoltura 10.000 anni prima della nascita della civiltà, poi noi ce la raccontiamo che uno una mattina ha svegliato e fatto l'agricoltura, ha cambiato il modo di produzione e è arrivata la civiltà. Ecco, no, non è vero, non funziona così, l'agricoltura c'era 10.000 anni prima, allora perché una volta che hanno scoperto l'agricoltura non sono diventati tutti agricoli? Perché poi abbiamo scoperto che gli scheletri di quelli del 3000 a.C. avevano un depauperamento osseo delle proteine, per cui in realtà quando hanno avuto l'opportunità di avere una dieta variata, caccia, raccolta, agricoltura, frutticoltura e allevamento stavano benissimo, grandi e grossi e non c'era di smorfismo sessuale, cioè grosso modo le donne erano grandi e grosse e forti quanto gli uomini. L'agricoltura è stato quindi un ripiego, per quello ci hanno messo 10.000 anni a diventare, ma non vi voglio tediare con i miei studi sul mesolitico che mi appassionano tanto ma non fanno parte della nostra conferenza. Però per dire l'adattamento presuppone appunto che cosa? Dire se il mondo è fatto così e continuerà sempre più a essere fatto così, noi che cosa facciamo? Che progetto abbiamo? Questo è il problema, che progetto abbiamo? E siccome non abbiamo nessun progetto, di Houston abbiamo un problema. Passiamo alla seconda parte. Siamo quindi in una transizione, sì, siamo in una transizione epocale, ma epocale quanto? Tutti gli studiosi, tutti gli scrittori gli piace dire, epocale non si è mai visto, sono arrivato io, meno male che l'ho visto io per primo. Ripeto, i dati ci dicono che l'epocalità è difficile sostenere il contrario, però ci sono due tipi di epocalità. La prima, a mio avviso, è un cambiamento esattamente importante come quello che ci portò dal mesolitico a fare civiltà. Cioè la quantità di cose che noi dovremmo rimettere in discussione a livello di Stati, di società, ruolo dell'economia, le nostre mentalità, quante ore lavoriamo al giorno, quindi quante ore ci abbiamo per migliorare la nostra conoscenza, perché se non miglioriamo la nostra conoscenza come la facciamo la democrazia? La democrazia è anche discutere di questi problemi, però discuterne con competenza, non è che perché uno ha il diritto di cittadino immediatamente in grado di fare scenari geopolitici mondiali, sono tante le cose da esperire e da conoscere, però normalmente le persone, giustamente ironico, vengono tenute in uno stile di vita in cui quando lavori otto ore al giorno, torni a casa, non è che ti metti là a beccarti un'ora che ti dice domani che devi morire, si guarda la televisione giustamente o fa altre cose, guarda internet, però questa disponibilità alla radicalità, all'epocalità della ridiscussione ahimè non c'è, ma non è che non c'è in Italia purtroppo, non c'è neanche a livello internazionale quanto meno all'interno dell'Occidente. L'altro senso di transizione epocale è quello degli ordini a cui abbiamo accennato, con ordini del mondo dal punto di vista geopolitico si intendono il numero delle potenze che ordinano, danno ordini sostanzialmente a una parte di mondo, allora si dice che noi abbiamo vissuto dal dopoguerra in un ordine bipolare, questa è una descrizione molto occidentale, centrica perché nel 1956 o 54 non ricordo, si riuniscono a Bandung in Indonesia, l'India, la Cina, il Pakistan, l'Egitto, l'allora Jugoslavia eccetera eccetera e fondano l'organizzazione dei paesi non allineati, cioè dei paesi che dicano signori noi abbiamo i nostri problemi, a noi di tutta questa vostra foca tra capitalismo comunista non ci interessa, vorremmo occuparci di cose più attinenti alla nostra realtà. In realtà non è una vera organizzazione, non hanno una vera soggettività neanche dal punto di vista geopolitico, però poi sono quella parte di mondo che oggi ci ritroviamo nei BRICS o nelle varie organizzazioni macro-ragionali e via discorrendo. Però insomma la storia vuole che con la caduta del muro di Berlino, ma soprattutto due anni dopo con l'implosione dell'Unione Sovietica inizia la famosa fase unipolare che nei libri di storia futura non verrà neanche citata, noi adesso perché siamo molto vicini all'accadimento no, ma insomma sono stati una decina d'anni in cui gli americani scrivevano che era finita la storia, che diventavano tutti democrazia, io al mercato facciamo la globalizzazione e bim bum bam, torri gemelle, per cui insomma una decina d'anni non è molto significativo. diciamo che l'America aveva perso il suo catecone, quello che gli poneva dei limiti e purtroppo, o per fortuna, in teoria dei sistemi non è detto che se uno crolla l'altro vince, perché prima l'altro si basava su un equilibrio competitivo sicuramente, però formava un sistema. Quando gli americani hanno dovuto di colpo occuparsi anche del resto del mondo, sono stati presi anche un po' contropiede. L'idea della globalizzazione è un'idea abbastanza sciocca, nel senso che pensare di ordinare tutto il mondo facendolo diventare un mercato non è bella o brutta, non funziona proprio, cioè è roba abbastanza demenziale. Per cui effettivamente si dice, si sa, che loro non avevano previsto questo tipo di crollo, tutto sommato questo equilibrio gli andava abbastanza bene. Fatto sta che da quando la Cina entra nel VTO e ce l'hanno fatta entrare loro, poi non è che ha buttato giù la porta, l'hanno tenuta dieci anni a fare esami di conformità e via discorrendo, perché in quel momento vigeva un certo potere, della fidanza, non c'è una certa visione del mondo, da lì è iniziato un processo che poi è quello che ci porta a oggi, ho scritto anche un libro tre anni fa verso un mondo multipolare, quattro anni fa non mi ricordo, ci troviamo dentro un ordine multipolare. Allora sappiate che in termini di sistemi di complessità, vada sé che un mondo di otto miliardi di persone è multipolare, cosa si intende per multipolare? Avete presente internet, è la teoria delle reti, quando c'è una rete, ogni nodo della rete, come dire ogni hub di internet, ce ne sono che hanno più traffico, hanno più rilevanza, hanno più importanza. Qui l'analogia termina, in termini geopolitici, significa che hanno più potere. Ora è impossibile organizzare una tale varietà, 200 stati, tutti sti popoli, chi cresce, quelli più giovani, quelli che vogliono le risorse, però non ci sono abbastanza risorse. È impossibile organizzare tutto questo se non si vengono a creare, come dire, è come un po' la logica degli stati federali, delle deleghe per territorio, per cui l'Asia avrà una sua logica. Sappiate che in Asia su 52 paesi solo due non hanno la Cina al primo posto come partner dell'import e dell'export. 50 paesi della Cina, gli piaccia o no, compreso Taiwan, compreso il Giappone, compresa la Corea, hanno al primo posto la Cina e quindi i rapporti di dipendenza con un gigante del genere fanno struttura in qualche modo, fanno sistema. Ora poi voi su Foreign Affairs, che è la Bibbia delle international relations americane, potete scrivere quanto volete, che no, perché l'Asia, noi gli diamo un'alternativa, però quella è proprio la logica. Sappiate che anche ai tempi della globalizzazione, se voi prendevate le prime dieci economie e prendevate i primi tre paesi per import e i primi tre per export di ognuno di questi dieci, avevate 60 posizioni. 54 erano paesi confinanti. Allora la globalizzazione da un punto di vista qualitativo è un fenomeno sicuramente da analizzare, però noi certe volte cediamo troppo nel qualitativo e non ci mettiamo il quantitativo. 54 su 60 significa che l'economia, chiamiamola di prossimità, cioè nel nostro caso la Francia, la Germania, vabbè c'è l'Austria in mezzo, ma insomma poi l'Austria è come se fosse la Germania, ma ci sono anche altri casi, per cui quando vedi l'Asia e vedi la Cina e vedi la geografia e poi vedi la demografia e poi vedi i dati economici, tu puoi scrivere su Foreign Affairs quanto ti pare che noi chiamo l'alternativa alla Cina, ma non si sa che sta a parlare, stai contro la realtà, stai contro la logica, per quello si chiama la logica del mondo multipolare, perché molte di queste cose io non le dico per preferenza ideologica, dovete immaginarvi che siete dei consulenti, siete stati chiamati in un pianeta della serie di Star Trek e cercate di capire come funziona o come funzionerà, senza esprimere troppi giudizi, la logica multipolare per noi è assolutamente giocoforza, è un fenomeno della realtà, c'è poco da farci se non adattarci. Adesso passiamo all'analisi delle fasce di potenza e di sistema regionalizzato, tant'è vero che sebbene molti neghi, ci sono anche signori geopolitici che dicono che non è vero che questa cosa è un mondo multipolare. Dal punto di vista economico la globalizzazione si sta fratturando e sta diventando una regionalizzazione, cioè il sistema è talmente complesso che deve dividersi in sottosistemi e quindi gli 11 paesi della SEAN, l'altro giorno hanno fatto la riunione in Sud America, il CELAC che è l'unione di tutti i paesi sudamericani, centroamericani e dei Caraibi, perché c'è un allineamento tra Obrador in Messico, Maduro in Venezuela, il nuovo governo colombiano, tornato Lula in Brasile e Fernandez in Argentina e quindi c'è una ripresa del mettiamoci insieme e cerchiamo di fare un controbilanciamento con i nordamericani, ovviamente con gli Stati Uniti d'America, il che significa che cerchiamo di avere magari più rapporti con i cinesi, allora poi gli americani diventano nervosi, insomma ci sono tutti questi movimenti che partono anche da fenomeni di regionalizzazione, c'è anche l'Unione Africana, c'è la compagnia lì del Golfo con quattro Stati, poi c'è il Qatar accanto e c'è l'Unione Europea ovviamente e poi l'Unione Economica Centroasiatica con la Russia, i quattro Stan eccetera eccetera e questo è un po' quello che si sta verificando dal punto di vista economico. A livello di potenze abbiamo una sola superpotenza che sono gli Stati Uniti, prima per fatti militari e per fatti economici, poi abbiamo due potenze, la Russia e la Cina, la Russia è forte dal punto di vista militare, che che ne dicano, nel senso che il conflitto è come giocare a poi, è una scala, allora tu inizia che ti dai uno schiaffo, puoi dire fuori i pugnali, puoi dire fuori le pistole, poi i fucili, i armati, i missili, tutto l'elenco Zelensky, i missili a lungo raggio, poi gli aerei eccetera eccetera, però quello che governa è l'ultima arma che è quella atomica, allora i russi hanno 5.500 testate e gli americani più o meno pari e quindi tutta la dottrina atomica durante la guerra fredda era basata sulla famosa mutua distruzione assicurata, è una cosa un po' perversa che però garantiva il fatto che non si innescava il conflitto, perché tu inneschi il conflitto e sai che alla fine comunque quello anche dopo che l'hai ammazzato arrivano i sistemi automatici e ti mandano i suoi missili e quindi muori pure tu e quindi è meglio non iniziare, quindi la Russia da questo punto di vista rimane una potenza militare, poi c'è la Cina che sta crescendo molto dal punto di vista militare ma in realtà è una potenza economica, mentre la Russia non è una potenza economica ma è una potenza militare, allora se uno giocasse il risico dice adesso la Russia si mette insieme la Cina, non è così semplice, sì certo ci sono ovviamente degli interessi comuni però in questo gioco ognuno gioca per sé e poi i gradi di fiducia sono anche molto relativi, ma molto importante stanno diventando la terza fascia di potenza dove l'India sta crescendo molto sotto molti diversi aspetti anche tecnologici, il Brasile è molto importante e poi se fate tutto il giro da oriente verso occidente è importante a suo modo il Giappone negli equilibri regionali, la Corea del Sud che sta entrando in Africa vendendo dei salinizzatori a spron battuto, l'Indonesia che sta crescendo ovviamente, il Pakistan che è una potenza nucleare, la Turchia avrete sentito no? Erdogan si agita molto, tesse fili, il Mediterraneo è qui e là, su e giù, naturalmente gli stati del Golfo, l'Egitto, la Nigeria, Nigeria 440 milioni di persone fra 30 anni, cioè sarà grande come l'Unione Europea, il Sudafrica che fa parte dei BRICS e poi ovviamente il Brasile, il Messico eccetera eccetera, questi attori stanno diventando molto importanti localmente, per loro stessi, ma anche per l'egemonia che possono esercitare sulla loro area circostante, perché gli americani non possono, non gliela fanno più a tenere controllo di tutto il mondo, anche perché non hanno più tanti vantaggi da condividere. Poi c'è ovviamente l'Europa, il motive di tutta questa faccenda è la contrazione occidentale, sostanzialmente l'ascesa asiatica, c'è, ci sono studiosi che si sono presi la briga di posizionare nel mappamondo il punto mediano della ricchezza, cioè fai conto, la ricchezza sta in America, il 40 è, il punto stava nell'Atlantico, no? Quando io ho scritto il libro stava in Afghanistan, oggi penso che stia addirittura in Pakistan, cioè la geograficizzazione media del totale della ricchezza del mondo, quindi si sta spostando sempre di più verso l'Oriente e non solo in Cina, sono molto importanti anche la Corea, il Giappone e questi 11 stati dell'ASEAN sono estremamente rilevanti. Tutto questo arriva un anno fa circa a una guerra che è la guerra in Ucraina. La guerra in Ucraina brevemente si può descrivere come quelle torte a strati, no? Ci sono quattro strati, il primo strato è una guerra civile in cui, come diceva Kissinger giustamente, basta prendere una cartina, poi tra l'altro abbiamo gli indicatori demografici e culturali e si vede che l'Ucraina è una dissolvenza incrociata tra l'Occidente e la Russia sostanzialmente, il mondo russo. Infatti se voi andate a leggere i dati demografici oppure i risultati delle ultime elezioni quando ancora si votava in Ucraina, vedete chiaramente che c'è un mondo molto filo-occidentale in Galizia, nell'estremo occidente e così come nel Donbass notoriamente invece abbiamo un mondo sostanzialmente russo. E in mezzo abbiamo delle percentuali variabili, appunto una specie di dissolvenza incrociata. Quindi dopo, lasciamo perdere le questioni di Piazza Maidan, eccetera, eccetera, è da segnalare una cosa che nel dibattito pubblico ci si scorda spesso. Sono stati firmati due protocolli di intesa tra i russi, il Donbass e l'Ucraina, i protocolli di Minsk, nei quali sostanzialmente la questione è stata trattata, parliamo a livello di logica un po' come è stata trattata qui la questione dell'Alto Adige, come in Spagna si viene a trattare la questione della Catalogna, eccetera, eccetera, dando autonomia sostanzialmente, amministrativa soprattutto, e rispetto culturale, per cui c'è il bilinguismo e via discorrendo. Chi ha promosso questo accordo? Francia e Germania, che erano anche i garanti. Allora la domanda è, quando questi accordi non sono stati implementati, cioè quando non si è incominciato effettivamente a metterli sul campo, lasciamo perdere se è colpa di uno o dell'altro, è colpa di tutti, perché nessuno li ha implementati. Cosa hanno fatto la Francia e Germania? Sono andati in tv, hanno acceso l'allarme rossa e hanno detto guardate, l'unica strada per non far scoppiare una guerra è questa, l'avevamo concordata, sembrava andasse tutto bene, ma qui erano sanzioni, allora no? Cazzo, hai fatto l'accordo, non lo mantieni, sanzioni, no? Niente, zero, zero, silenzio. Per dire che dopo possiamo discutere quanto volete della guerra, ma questa guerra non doveva iniziare, perché una volta che inizia ci sono strati e strati di questo conflitto in cui poi alla fine, se vi piace, possiamo anche stabilire chi è buono e chi è cattivo, ma nella buona sostanza più va avanti e più non se ne esce, tant'è vero che c'erano delle speranze qualche mese fa che si potessero avere delle mediazioni e poter avere magari una pausa e invece, come sapete, stiamo arrivando alla vicepresidenta del Parlamento tedesco, che è una signora, appunto, e poi anche Verde, che l'altro giorno ha fatto un tweet dicendo abbiamo liberato i leopardi, abbiamo liberato, cioè fa dell'ironia, capito? Tipo l'esercito delle dodici scimmie, lei è ecologica, ha liberato il leopardo che è nel leopardi, e voglio dire, ed è tedesca, sarebbe un panzer poi, no? Questo è il primo livello e purtroppo su questo livello si poteva agire per farlo rimanere l'unico livello, oppure si poteva agire per far esplodere questa contraddizione, tant'è vero che questi accordi non avevano senso perché le parti in causa non finivano con il Donbass, l'Ucraina, la Russia e l'Europa, mancavano i nostri amici dell'anglosfera, americani e stati dell'Europa dell'Est, che ovviamente hanno operato attivamente per fare dell'Ucraina, è sostanzialmente una minaccia, ci sono dei fatti tecnici che sono assolutamente indiscutibili, ah ma loro non sono entrati in una, ah ma se pure gli davamo i missili erano missili difensivi, ho capito, ma è una piattaforma, se ci carichi il missile difensivo è difensivo, se ci carichi il missile offensivo e offensivo, ci sono dei livelli di manipolazione che sono assolutamente, a me hanno lasciato indignato quando è iniziata questa storia, perché chi segue queste cose è un po' questa storia che conosceva anche prima e si è vista immediatamente una progressione per cui ti faceva venire in mente che la cosa tutto sommato è anche abbastanza preparata. Il secondo livello è che la Russia ha invaso l'Ucraina, questo è il comma 4 dell'articolo 2 delle Nazioni Unite, non si invadono gli Stati, punto, quindi c'è l'aggressore e l'aggredito, senz'altro, solo che sono 4 i livelli del discorso, per cui il secondo livello c'è, c'è l'aggressore e c'è l'aggredito, poi altre volte c'è stato un aggressore e un aggredito e non ce ne siamo di tanto accorti, ma comunque nella buona sostanza esiste il comma 4 dell'articolo 2 delle Nazioni Unite e queste cose non si fanno. Terzo livello, immediatamente ovviamente avrete visto l'Ucraina si è configurata in realtà come la Nato e gli Stati Uniti e l'Europa tutta e l'Europa è stata pilotata a prendere delle scelte inaspettate, inaspettate, assolutamente inaspettate. Io che seguo queste cose, nelle 24 ore successive, il 24 febbraio, mi ricordo l'allora ministro, mi ricordo come si chiamava quello Franco, da Bruxelles che esce dalla riunione e dice no, sì certo, figurati se tagliamo il gas con i russi, ma non se ne parla neanche, non sanno di cosa stanno parlando, la nostra economia crollerebbe. 36 ore è durata questa posizione tenuta da Italia e Germania e allora uno si domanda che cosa è stato detto, cosa è stato messo sul piatto per dopo 36 ore invece tutti in coro, facciamo così. Non sto giudicando se è giusto o sbagliato o bello o brutto, a livello di dinamica lascia abbastanza perplessi, lascia abbastanza interdetti. Poi dopo scopri chiaramente che i gentileschi hanno avuto la liberazione della metallurgia, cioè tornano a produrre armi, investono 100 miliardi e viene rilanciata la loro industria e poi ci venderanno. Oggi venendo qua stavo leggendo, abbiamo comprato 170 missili dai francesi, quindi chiaramente c'è, perché poi noi compriamo i missili perché dobbiamo andare all'Ucraina, c'era evidentemente un programmino e il programmino è stato espresso dal punto di vista strategico militare dall'allora vicesegretario del Dipartimento degli Affari Esteri, che non mi ricordo come si chiamava, che diceva sarà il loro Vietnam, nel senso che la strategia americana, poi le strategie a livello teorico sono n, però sono molto importanti le verifiche pratiche, per cui siccome gli americani si sono raccontati che l'Unione Sovietica è crollata perché ha furia di spingere, di impegnarli e la guerra qui la guerra là e manda le truppe e investi per migliorare la dotazione militare perché noi invece tecnologicamente siamo avanti, facendo questa corsa il maggiore ha stroncato il minore e quindi sostanzialmente stanno replicando diciamo così lo stesso schema. Al quarto livello è la prima guerra del mondo multipolare, cioè Putin nei suoi calcoli si è fatto anche il calcolo di dire io dietro ho in teoria il mondo multipolare, cioè non che se erano visti e se l'avevano fissato ovviamente un'alleanza da questo punto di vista, ma ha fatto saltare il tavolo, basta con la manfrina, buttiamola giù pesante e adesso dite cosa volete, vinceranno gli americani e ci abbiamo altri 10-20 anni di dominio americano, anche voi ce li avrete oppure state dalla nostra parte. Con molti imbarazzi alle Nazioni Unite, la prima votazione, soprattutto nella seconda votazione poi ti dicono, diciamo 90 stati hanno votato contro, sì tutte le isole del Pacifico, ogni isola ha 3.000 abitanti per cui in realtà se andavate a fare i conti il 75% del mondo non ha votato quelle risoluzioni, il che non significa però che questa parte del mondo è filo russa oppure è stata la parte della Russia, insomma ecco c'è una certa complessità anche perché si dice transizione, perché ogni momento non è la situazione precedente e non è ancora la situazione che sta per arrivare. Andiamo a chiudere con l'ultima parte in cui riconizziamo tutto questo dal punto di vista degli Stati Uniti d'America. Cos'è questo tutto sommato, questo momento storico? Una parte di quello anche che vi ho raccontato. È la last call, l'ultima chiamata per gli Stati Uniti d'America, che loro affrontano sostanzialmente con una strategia di questo tipo. Primo l'accorpamento dell'Europa, cioè gli americani sono il 4,5% della popolazione mondiale e fanno il 25% del PIL mondiale, ancora oggi. Facevano il 50% nel 1950. Fanno più PIL, però è aumentata la torta, la percentuale è diminuita. Allora loro hanno pensato, se accorpiamo l'Europa, e ricordate che Obama aveva come strategia fare i famosi accordi di libero scambio, ce n'erano due, uno rivolto all'Europa e uno rivolto al Pacifico. Poi è arrivato American First e ha detto, ma non se ne parla neanche, noi facciamo le cose per conto nostro. E Biden ha fatto bingo, perché ha fatto American First senza fare gli accordi commerciali. Per cui noi adesso non abbiamo il problema di importare il pollo al cloro, però compriamo le armi sostanzialmente dagli americani, aumentiamo la spesa bellica al 2%, non abbiamo voce in capitolo all'interno delle strategie, avevamo venduto la gestione del Porto e Trieste ai cinesi, via! Huawei aveva detto che apriva il centro ricerche del 5G qui a Milano, dove avete un Politecnico che sforna ragazzi che si aspettano di poter fare qualcosa nelle nuove tecnologie, via! Perché sono cinesi e col 5G ci spiano. In che parte è pure vero, nel senso che la nostra, come dire, la sovranità, quando si dice sovranità, no? Sì, vabbè, c'è la sovranità monetaria, la sovranità politica, la nostra sovranità militare è nulla, la nostra sovranità tecnologica, ciao ciao! E questa è la multidimensionalità del mondo che è difficile oggi da cogliere. Ad ogni modo, loro hanno accorpato l'Europa in maniera tale che l'Occidente, che ancora fa il 45% del PIL mondiale, diventi il sistema, che pur non essendo maggioritario, diventa il sistema più importante perché ha una grande omogeneità interna. Per cui, volete comprare i nostri chip? Però dovete dare una serie di garanzie, non dovete fare affari con la Cina, e qui è là su e giù. Sapete che adesso i cinesi hanno fatto il C4, cioè Giappone, Corea del Sud, Taiwan, non possono più vendere chip ai cinesi. Questa è la strozzatura a livello di hardware di tutto il progresso tecnologico, perché poi dopo i cinesi sono molto bravi a sviluppo software, ma se non hanno più i chip, e poi c'è un problema anche con le schede video per riconoscimenti facciali, vabbè tutta una serie di particolari tecnici che vi risparmio, stanno cercando appunto di dire facciamo il club di quelli bravi, buoni e belli, che hanno tutta una serie di possibilità, e chiudiamo gli altri fuori. E ci pensino bene gli altri a chiudersi fuori, perché potrebbero rimanere fuori un grande tipo di sviluppo. E questo accorpamento dell'Europa è riuscito in una maniera incredibile praticamente in 3-4 giorni. Ora, è inutile che anche gli esperti, cioè ci sono delle cose che non sappiamo, io non fisso a dire cosa hanno detto dal telefono. Vi ricordo Fabri in televisione, sapete che c'era una cosa tutti i giorni sulla 7, che diceva e non diceva che aveva saputo che a Palazzo Chigi Draghi aveva ricevuto una telefonata ed era uscito fuori bianco dalla stanza. Per cui questa svolta a 90 gradi che si produsse dopo 36 ore, 48 ore all'inizio della guerra deve aver visto una serie di fatti, di atti, di persone, di cose dette che purtroppo non sappiamo. Però da lì in poi vedi certi tipi di comportamento, anche passando sopra le opinioni pubbliche molte volte anche apparentemente gli interessi industriali di determinati attori, tipo la Germania, no? Questi si fanno bombardare il Nord Stream e il 50% delle consorzio era loro, no? Niente. Sono stati... Chissà chi è stato bombardare il Nord Stream. E tutti lì, no? Vabbè. Secondo punto, rottura della globalizzazione, si va verso la regionalizzazione, cioè si va verso questo sottosistema in cui l'Occidente si pone come vuoi importare in Europa? Eh, però devi salvaguardare queste determinate... Tutto fatto ovviamente, modellato contro la Cina poi nella buona sostanza. Tutto questo poi sta creando grossi problemi di costi, anche di caos, poi abbiamo visto sull'energia, l'energia non l'abbiamo ancora ben visto, perché insomma noi adesso prendiamo il gas dall'Algeria. Io mi ricordo Prodi in televisione, qualche mese fa, che diceva, ma io quando diventavo Presidente del Consiglio, prima cosa ho fatto fare l'analisi, si chiama analisi di rischio, no? Cioè, guarda, io ho questo bisogno, ho questi fornitori, fammi l'analisi di rischio. E tutti gli analisti dicevano, vabbè, insomma, la Russia è affidabile, mica vorrei andare a prendere il gas in Algeria, no? In Algeria. Problemi anche con gli alimenti, io purtroppo ho avuto una di queste ultime influenze un mese e mezzo fa, una cosa terribile, peggio del Covid, ma dato mia moglie in farmacia non c'erano le medicine, non ci sono le medicine, scopri che gli eccipienti, i principi primi, stanno in una catena, il valore che passa per l'Ucraina e la Russia, cioè effetti del genere, no? E poi anche queste grandi turbulenze nel mondo. Chiaramente, se fate questi calcoli e state su un'isola oceanica, perché gli americani hanno l'oceano Pacifico da una parte e l'Atlantico dall'altra, un territorio molto grande, sono 330 milioni, ma insomma ci stanno abbastanza comodi, molte risorse interne, hanno un accordo di ferro che subentra dall'ex accordo nafta col Canada e il Messico, tutto sommato era ancora un controllo indiretto abbastanza preciso del Sud America, è chiaro che dal loro punto di vista i costi e i patimenti portano a certi totali e qui da noi non c'è nessuno che fa il calcolo. Ma hanno anche tirato fuori due parole d'ordine, reshoring e frenchoring. Allora, reshoring significa reimportare internamente produzione che la filosofia della globalizzazione aveva spataffiato, ma letteralmente spataffiato, nel senso che la costruzione della catena del valore fa sì che questa cosa costruita è fatta di n pezzi e questi pezzi stanno effettivamente in n stati e poi si mettono assieme e riescono, avrete visto su Facebook gira questa cosa delle pere coltivate in Sud America e vengono impacchettate in Asia e poi vendute in America, no? Ecco, costa meno fare tutto sto giro che non mandare le pere, è strano ma è così. Reshoring, cioè riportiamo tutto internamente. Ora attenzione perché questo tipo di strategie sono facili da nominare ma poi applicate, mostrano diverse insidie, la capacità produttiva degli americani è molto depauperata negli ultimi decenni, cioè questi hanno ceduto l'industria, si sono convinti di questa cosa della globalizzazione, i saperi, soprattutto i saperi produttivi, artigianali, una volta che li hai persi non ce li hai più, cioè non è che vivi di ricordi, no? La grande difficoltà di mantenere aree in cui magari hanno anche una produttività, noi per esempio nell'alimentare è che una volta che hai perso quella tradizione, ecco il sapere non c'è più. A Pantelleria non c'è più uno che sa fare i muretti a secco, gli ultimi vecchietti io li ho conosciuti qualche decennio fa e non ci sono più, eppure quella è una caratteristica che fa di Pantelleria a Pantelleria. Allora adesso ultimamente la Yellen, ex Fed, ha detto vabbè allora se no facciamo il French Schroding, cioè leviamo certe produzioni dalla Cina e le diamo ai paesi amici, per esempio le Filippine, vogliono usare questa carta molto in Asia per cercare di spacchettare, di divincolare e di creare una catena di contenimento, il famoso containment si dice nelle nostre discipline della Cina. Il discorso sarebbe lungo, è molto difficile, pure questi sono calcoli che vengono fatti da molte volte a tavolino, le strategie geopolitiche fatte dai neocon di solito non brillano per la conoscenza del mondo, sembra strano, ma anche loro hanno poi tutto sommato una conoscenza del mondo, quale gli piace raccontarselo e non so fino a che punto quanto è realmente. Anche perché alcune linee sono, come dire, inevitabili, quindi è difficile anche prendere coscienza e dire ok cerchiamo di fare un soft landing degli Stati Uniti d'America, perché io ho calcolato che loro potrebbero perdere 7 punti di PIL e arrivare al PIL pro capito della Germania, dove non mi sembra che c'è gente che dorme sotto i punti, mentre ci sono 30 milioni di poveri assoluti negli Stati Uniti. Allora hanno un modo di distribuirsi la ricchezza interna anche da pazzi e però non hanno nessuna intenzione di rivedere, perché quel modo poi è collegato a una cultura, la cultura della competitività, ma anche col protestantesimo, c'è la grazia nella misura in cui è performato e se le cose non funzionano ci sono gli enti caritatevoli, per quello ci sono le ONG, sono gli enti caritatevoli internazionali della mentalità dei protestanti, comunque c'è culture, ognuno ha la sua, loro hanno la loro e chiaramente in base alla potenza riescono a imporla a scapito magari anche di altri. Infine è tentativo di egemonia attraverso anche la rottura delle istituzioni multilaterali, stanno morendo gran parte delle istituzioni multilaterali che avevano troppi lati, per esempio il giorno dopo l'inizio della guerra si scioglie del Consiglio dell'Artico, in cui c'era la Russia, la Norvegia, la Svezia, mi sembra la Finlandia, comunque la Danimarca, la Groenlandia, il Canada e gli Stati Uniti d'America. Lo cito perché il prossimo conflitto, secondo chi parla, ma secondo anche altri geopolitici, sarà appunto nell'Artico. Non a caso la Svezia e la Finlandia è stato imposto tutto sommato di entrare nella Nato, guardate che quella è una storia ridicola, la Svezia era fuori da qualsiasi tipo di schieramento al 1800, ne aveva anche dei vantaggi perché erano tutto sommato a livello internazionale, erano vice ONU, tante cose, adesso i più giovani non so ricorderanno, Olaf Palme, non so se vi ricordate, ma tante crisi internazionali sono state risolte a Stoccolma, Oslo, eccetera, avevano una terzietà sostanzialmente. In più per arrivare in Svezia, a mezzo c'è la Finlandia, quindi dal punto di vista militare, e poi che ci ne fa? Sono tutte renne, cioè, no? Che cazzo devi prendere in Svezia? Non ci stanno materie brici, c'è legno, sì, Ikea, però non è che ai russi il legno gli manca, no? Se prendete la Siberia, quindi non aveva senso, a parte che non sono ancora entrate perché Erdogan è troppo simpatico da questo punto di vista. No, nel senso che ha accolto una contraddizione, cioè adesso quando il Parlamento si riunisce e dice sì, adesso gli diamo questi quindici poveri giornalisti curdi che non hanno fatto nulla e che sicuramente vanno lì a morire, la cultura svedese si trova in grave contraddizione con questo, quindi non se ne parla più, ci hanno bombardato che, sì, perché a Svezia e a Finlandia sono entrate nella Nato, no, non sono entrate nella Nato e i colloqui l'altro ieri sono stati rimandati sine die. E perché sono entrati? Perché il vero conflitto prospettico è quello nell'Artico, cioè ridurre la capacità militare dei russi che oggi hanno un vantaggio competitivo sull'Artico altissimo. Perché? Perché nell'Artico si stima che c'è il 40% del gas che non abbiamo ancora tirato fuori e quasi il 40% delle riserve minerarie che non abbiamo ancora tirato fuori. In più c'è l'alternativa della rotta navale della Via della Seda, in cui guadagni circa 12 giorni di navigazione e soprattutto ti eviti tutta la teoria degli stretti, che il nostro amico Fabio in televisione ogni volta ricorda che fa parte del concetto di geopolitica, è Malacca, Suez, Badermandeb e via discorrendo, perché lì parti dalla Cina, ti fai tutto il giro costa a costa, passi sotto la nuova Zemlia e arrivi in Occidente, sempre che l'Europa abbia interesse a continuare a mantenere rapporti con l'Asia, ad ogni modo. L'ultimo punto della strategia americana è il primato militare ovviamente e il primato tecnologico, c'è un grandissimo rilancio della ricerca e della produzione sia dei sistemi d'arma e sia della ricerca tecnologica connessa. Sappiate che tutta la tecnologia, cioè internet nasce da ARPANET, ma tutto deriva dalla teoria dell'informazione e la cibernetica, che purtroppo fa parte della cultura della complessità. Ora, questa cibernetica viene fuori da un fisico matematico, Norbert Wiener, il quale viene mandato dagli americani in Gran Bretagna a fare cosa? A risettare il sistema di puntamento dei missili contro i V2. I tedeschi lanciavano questi V2 e arrivavano su Londra. Gli inglesi avevano difficoltà a far funzionare bene il sistema per cui il radar intercettava il missile dall'input alla piattaforma missilistica alla quale si orienta, calcola la velocità del missile, spara il suo missile e poi verifica e poi si autocorregge. C'erano dei problemi in tutto questo sistema, che è un sistema cibernetico, quindi la cibernetica viene da questo. E da lì la teoria dell'informazione, i Bell Laboratories e via discorrendo. Quindi tutta l'informazione tecnologico-informatica viene da questo. Von Neumann che fa il computer, cosa fa? Prende la teoria di Alan Turing, gli avevano detto tu stai zitto, oltretutto sei pure gay, gli danno le pillole e poi non c'erano i soldi. Quando è finita la guerra i britani non avevano i soldi per portare avanti quei progetti. La famosa architettura di Von Neumann che ancora oggi, l'architettura dei tower, ormai i tower non ci sono più, abbiamo tutti i personal, però viene da questo. E ci sono tutte le storie con la marina militare americana e via discorrendo. Quindi promuovere la tecnologia che è nel complesso universitario, start-up, capitale pubblico e privato messo insieme, tutte cose che ha studiato e rilevato seguendo proprio questo tipo di prodotti qua, Marianna Mazzucato, in un ottimo libro che vi consiglio assolutamente, viene proprio da questo, cioè investire in ricerca perché poi dopo si ha un doppio fallout, sia dal punto di vista commerciale, lo stesso GPS, sia dal punto di vista militare. E infine la preparazione ai nuovi conflitti del Polo, vi ho anticipato brevemente, l'altro è quello della Cina con un grosso punto interrogativo, ci sarà, non ci sarà, qui dipende, ci sono studiosi più ottimisti e altri pessimisti. Io non credo che ci sarà un conflitto in quanto tale, però attenzione, la parola conflitto può portare alla guerra oppure può portare a gravi frizioni o anche a guerre per procura in altre parti, provocazioni, ostracismo commerciale, sicuramente ci sarà conflitto, ma non necessariamente la guerra. Io ho finito anche perché immagino sarete esausti, permettetemi solo, perché ci tengo, tanto non potete dire di no, dire una parola su come si studiano queste cose, perché ho fatto tanta fatica per studiarle e quindi vorrei raccontarvi anche un pochino, ma non perché può servire a fare anche dei ragionamenti. Avrete capito qui che ci troviamo in una situazione multidimensionale che va tra la guerra mondiale a un casino permanente che durerà qualche decennio con vari tipi, diciamo così, di manifestazioni. Allora io più che di geopolitica mi occupo di questa nuova disciplina che è la mondologia, che a mio avviso andrebbe composta di geografia fisica, perché molte considerazioni nel conflitto tra Stati e zone del mondo richiedono che noi si conosca un po' meglio la geografia fisica e la geografia umana, che è anche la demografia da riscattare da questo dannazio memoria nei confronti di Malthus, perché poi i numeri possono portare anche da tutta altra parte a dire tutt'altre cose, ma che è importante avere nel monitor sotto controllo. Così come la geostoria, perché uno dei difetti della geopolitica è quella di rischiare il determinismo geografico. Ah, tu c'è una grande isola davanti alla massa continentale, diventi un impero. Gran Bretagna e Giappone. Ok, l'Indonesia no. Allora come funziona la regola? Perché chiaramente gli spazi condizionano, ma non determinano. determinano, per cui ecco perché geostoria, perché poi gli uomini interpretano a seconda del periodo storico, della cultura che hanno, della religione che hanno. Per chi si diletta in storia stiamo parlando della scuola delle Annale di Ferdinand Brodel, questo è il grande contributo che ha portato di reinserire la geografia nella lettura dei fenomeni e poi naturalmente la geoeconomia. Questa per la parte geo. Per la parte polis, politica, sono necessarie nozioni di politica interna, non è vero che non bisogna avere nozioni di politica interna, anche se poi di questo si occupa più le relazioni internazionali che la geopolitica, però sapere un po' come funzionano le cose, perché se non altro hanno le grandi potenze, Stati Uniti e Russia, è importante. Chi studia la Russia ha sentito dire delle cose, questi quadretti in cui c'è Putin, il giorno è pazzo, sta a morire, vuole essere il nuovo Zara, non sono a livelli di lettura dignitosi di un paese di 150 e passa milioni, ci sono delle strategie, bisogna capire quali sono i rapporti, sappiate che chi segue queste cose sapeva che Putin era il più occidentalista tra i leader della Russia, gli euroasiatisti in Russia non esistono, sono l'X%, ma le due grandi tradizioni della cultura russa sono i slavofili, i germanofili in parte anche orientate all'Occidente, lui disse a San Pietroburgo, a San Pietroburgo erano tutti storicamente per dire cerchiamo di fare la parte orientale dell'Occidente, come è geograficamente e come è storicamente, perché poi loro sono assimilati nella nostra, sappiate che in geografia la Russia è Europa, fino agli Urali è Europa, non è che gli puoi andare a dire, no quella non è Europa perché c'è la democrazia, c'è la democrazia, in geografia, lì sono gli Urali, politica interna, poi chiaramente politica estera, poi se proprio non sappiamo tutto sappiamo dove andare a prendere le informazioni, poi è necessario conoscere qualcosa di polemologia, di studi strategici, cioè di fatti militari, proprio per sapere, basare anche le ipotesi di conflitto e anche i costi della crescita militare, per esempio la Cina si sarebbe rispermiata allegramente di investire soldi in questa competizione, verso la quale però è spinta tutti i giorni praticamente dall'America. Poi per dirvi quanto è importante sapere diverse cose, Taiwan, il 45% dei scambi commerciali di Taiwan sono con la Cina, quindi scoppia la guerra, la Cina dice adesso noi facciamo al blocco di import-export con Taiwan, in più per 50% della prospezione marina ti facciamo al blocco navale, che è quello che hanno fatto dopo che è andata la Yellen per dimostrare, c'è la rivoluzione dei capitalisti di Taiwan, sono i capitalisti di Taiwan che vanno a sgozzare quelli al potere che vogliono fare la guerra con la Cina, per dire quanto è importante approfondire determinati tipi di dati perché queste cose molto vengono raccontate un po' come i romanzi di K e Spade, i buoni e cattivi, democrazia verso autocrazia eccetera eccetera, chiaramente ci sono un sacco di cose, esattamente come nel nostro mondo, immaginate di non essere italiano e di dovergli spiegare la politica italiana, vabbè noi arriviamo a dei livelli della commedia dell'arte, però insomma tutto il mondo ha la sua complessità, nozione ovviamente di economia e finanza, di tecnologia proprio per i fall out che hanno sia dal punto di vista commerciale e sociale che militare e la conoscenza delle culture è anche molto importante, noi non possiamo più permetterci di parlare di intere parti del mondo, l'Africa, i paesi musulmani, la Cina con la superficialità con la quale affrontiamo perché in termini di adattamento se non conosciamo chi sono i condomini di questo nuovo mega condominio che è il mondo sarà difficile trovare un accordo, anche in base ai principi di reciprocità che l'associazione mondiale delle religioni ha stabilito essere l'unico elemento di un'etica mondiale, la reciprocità, quello che fai a me faccio a te, quello che non fai a me non faccio a te. E poi ambiente, ecologia, clima e attenzione c'è una nuova disciplina che è la futurologia, che voi sorriderete, che non è fatta di palle di vetro, c'è una facoltà all'Università di Trento, ce ne sono molte altre nel nord Europa, credo in Finlandia addirittura c'è una camera consultiva accanto alla camera dei deputati perché una delle caratteristiche di questo mondo che sta diventando estremamente complesso è prendere i fenomeni per tempo, per cui siccome noi tutte le questioni climatiche di oggi le conoscevamo negli anni 80, se invece di dare dell'abbracciatore di alberi, per dire che era gente così un po' new wave, un po' fricchettoni, gli ecologisti di allora avessimo preso, avremmo spalmato gli interventi in 40 anni e oggi forse avremmo avuto dei risultati e così anche nei confronti del problema demografico, della gestione delle migrazioni, dei cambiamenti dell'economia, cioè andare incontro ai prossimi 30 anni non solo senza un progetto ma senza una previsione è estremamente dannoso, finisci con l'essere una parte estremamente marginale del megasistema che abbiamo descritto in precedenza, se no o così o non c'è alternativa. Ho finito, quest'ultima cosa che vi ho detto fa parte di un'impostazione che è quella multi-inter-trans disciplinare che però è estremamente difficile avere anche nella nostra accademia per una serie di motivi ed è il vero cambiamento secondo me della nostra forma di conoscenza, il primo cambiamento che dovremmo portare, perché prescegliere che una di queste discipline ci possa raccontare tutto del mondo è sbagliato, potete partire con tutti i sogni che volete dell'ecologia, poi quando andate a fare i conti dal punto di vista economico che significa sociale, che dovrebbe portare a delle modifiche politiche, ripeto lavorare meno perché il lavoro va spalmato, perché devi produrre meno, perché comunque l'economia dopo due secoli ha già prodotto quasi tutto, avrete visto su internet le foto in bianco e nero della signora con il monopattino dei primi del Novecento, vi ricorderete qualche anno fa con la televisione 3D, cioè noi abbiamo un tasso di innovazione, parliamo molto di innovazione, ma le vere innovazioni, le innovazioni catastrofiche, cioè l'invenzione dell'energia elettrica ai primi Novecento, la rivoluzione chimica del primo Novecento, la rivoluzione meccanica del primo Novecento, noi abbiamo vissuto, continuiamo a vivere di questo, produciamo nuove macchine, cerchiamo di farle un po' diverse ma non abbiamo inventato un'altra cosa, l'unica vera innovazione che c'è stata ovviamente è stata quella del digitale dell'ICT, però sappiate che in America, che è il paese più sviluppato da questo punto di vista, l'ICT fa l'8% del PIB, in Francia fa il 3,6%, in Germania 3,6%, in Francia 3,4%, quindi estremamente rilevante, ogni volta che apriamo Repubblica, il gazzettino, Steve Jobs è andato a bagno, oggi non ha fatto molto bene, sono molto partecipi di tutta questa storia, però non si tiene in piedi un'economia, non si tiene in piedi un mondo e poi soprattutto si perde anche un sacco di lavoro, quindi bisognerebbe riformare la logica del lavoro e allora che reddito diamo alle persone se lavorano di meno, visto che già oggi che lavorano non riescono a avere i soldi per… e bla bla bla, quindi come vedete la grande difficoltà è approcciare il mondo facendosene un'immagine e poi anche una discussione, un progetto eccetera eccetera per quella che è la sua complessità. Io spero che la chiacchierata vi abbia confortato e vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie Pierluigi, io immagino che giustamente sarete pieni di domande, però noi abbiamo prenotato il ristorante alle sette e mezza e quindi temo che… c'è tempo per una domanda ma non so se c'è tempo per una risposta… Sì, sì, sì… Scusate! Va bene, siamo a una domanda… Sono le sette? Sono le… Sono le sette meno dieci… Ma dovete avessi tenentare? 18 e quattro… 18 e quattro… Marcello dove avessi? Dovete avessi tenentare? Dovete avessi tenentare… Eh? Marchetta Salsicolo… Ah non… Va bene dai… A proposito di Salsicolo… Ovviamente chi deve andare si senta libero di alzarsi, però vediamo chi ha il dito più veloce… Signore, forse la sentiamo, non so se... L'ascolto. Grazie per la relazione interessantissima. Una delle cose che impressiona di più oggi è questo pensiero unico, questa mancanza di reazione a quello che sta succedendo in questo momento. E che è causata soprattutto anche dal fatto che in mass media, totalmente, tranne delle eccezioni, non so, alcuni giornali rischiando sempre di essere tacciati, di essere pezziniani, tipo l'avvenire, tipo il fatto, eccetera. E cercano, si sforzano, caracciolano con l'IMES, si sforzano di dare almeno un'immagine un po' complessa. Perché altrimenti, va bene, gli studiosi sono importanti, non sarebbe altro, ma la diffusione poi è quella dei media, è quella più importante. E questa purtroppo è un'animemente disastrosa, disastrosa. Cioè questo pensiero unico, quindi è veramente forse una delle cose più grandi in questo momento. Però il problema è ancora più grave, nel senso che... Ah, scusi, scusi. Pensavo a Gidebord, che già nel 67 aveva già previsto una situazione del genere. E appunto, siccome le cose sono complesse, mi ricordo Marco Boato, persona interdisciplinissima, che però allora disse di Gidebord e dei situazionisti di tacciò di fascismo. Cioè, questo per dire come le situazioni si modificano e cambia. Ecco, volevo sapere cosa... Beh, a sinistra, un certo tipo di sinistra ha avuto molto ritardo nella capacità di leggere un aspetto che poi è proprio della tardo modernità. E comunque, dicevo, non c'è solo il problema a livello di informazione, c'è a livello di conoscenza. Guardi che questo problema c'è negli studiosi, c'è nello studio, c'è una grandissima difficoltà di sviluppare una metodologia, il pensiero multi-intertrans disciplinare, ma a livello anche stupido. Cioè, se io, docente, parlavo con dei docenti universitari, do una tesina multidisciplinare, c'è il problema di come compongo la commissione. Cioè, se stiamo a fisica e a un certo punto parlo di chimica, non so chi deve andare a discutere con l'allievo questo aspetto. Quindi sono, in linea generale, senza entrare troppo nello specifico, la mia impressione è che siamo in un momento di grandissima depressione intellettuale. Chiaramente il pensiero unico fa molto, diciamo, ma è a monte. Cioè, davanti a un casino del genere dovremmo essere in uno di quei periodi in cui c'è una certa effervescenza, in avanguardie limitatissime, imposti, no, tremamente, però un fiorire di pensiero nuovo, di sperimentazione mentale, anche dei modi con i quali sviluppiamo la conoscenza e ce la condividiamo, e non c'è nulla di tutto questo. L'altro giorno è uscita una ricerca di questo fenomeno per cui continuano in scienza a pubblicare roba che ripete sempre le stesse cose, non c'è nessun tasso di innovazione e si crea un rumore di fondo, il publish or perish famoso, per cui c'è un'invasione di paper che non fanno che moltiplicare informazioni che sono sempre le stesse e che sono tutte dentro un paradigma. La struttura delle rivoluzioni scientifiche che ha la base proprio del concetto di immagine di mondo, noi siamo molto lontani dalla, forse perché siamo troppo inziani, forse perché le soluzioni non sono obiettivamente facili, forse perché davanti non c'è una società che risponde, non c'è una società politica, non c'è l'atmosfera, diciamoci la verità, chi ha i capelli già un po' grigi, voglio dire, agli anni 70-60 c'erano i quaderni piacentini, e c'erano i sindacati e ci vedevamo e discutevamo, poi certo Marco Boato udiava quell'altro, quell'altro massista, lenista, linea rossa, linea nera, però insomma c'erano, adesso chiaramente dal punto di vista sociale, ma molto è anche a livello proprio categoriale, applicazione della logica, le categorie, il concetto di relazione, c'è molto di questo anche in filosofia come problema. In parte è un risultato del disegno e in parte è proprio una difficoltà adattativa, cioè a cambiare, a riconoscere l'epocalità e il significato di certi tipi di cambiamento. L'economista si è sentito... Volevo porre una domanda che in realtà apre secondo me un tema infinito anche questo, il tema dell'alimentazione, nel senso che questo è un altro di quei temi connessi un po' a tutto, connesso al discorso economico, al discorso dei conflitti, al discorso delle culture, eccetera. Allora tutto questo vantaggio a cui adesso stiamo assistendo a proposito di bombardamenti, di farina di insetti, cioè tutto questo che, come dire, con la logica del continuiamo a parlarne e vi convinciamo che vi farà benissimo mangiare il vino, per carità, gli insetti. Allora, volevo capire dal suo punto di vista cosa si sta preparando anche da questo punto di vista, perché il tema alimentare... Il tema alimentare, se leggete chi si occupa di queste cose qua, è spaventoso. Non c'è più spazio per coltivare tutta sta roba che serve a dare da mangiare 8 miliardi di persone ai prossimi 10, punto. Non c'è neanche l'acqua, ma soprattutto non c'è lo spazio. E quindi si andrà a una ricomposizione dell'agenda alimentare per alcuni, come a Matrix, cioè chi si mangerà le bistecche e chi si mangerà le farine. Ci sono altri modi di uscirne? Ma probabilmente sì, però fa parte di una di quelle cose estremamente complesse in cui dovresti rifare tutta la catena, le produzioni a corto raggio, eccetera, e poi cambiare proprio... Cioè, attenzione, perché noi abbiamo anche delle nostre contraddizioni interne, cioè è bello immaginare un mondo bello, pulito, sano, ecologico, giusto, senza le diseguaglianze, eccetera. Ve voglio vedere. Cioè, non è facile, nel senso che ci sono molti cambiamenti, veramente molto radicali, che chiaramente vanno compensati da altre cose. Insomma, per esempio, lavorare 5 ore al giorno significa recuperare tempo per socialità, affetti, studio, e quindi un equilibrio interno in cui, invece che farmi piada, la foca compulsiva di andare a fare shopping per recuperare, non ho di questi squilibri, non c'è meno depressione, per esempio. Però le cose sulle quali bisogna agire, se non conosci i sistemi, se non conosci le sua complessità, sono tante. Si sta preparando questo, cioè ci stanno piano piano preparando a una torsione dell'agenda alimentare, che giocoforza ci dovrà essere. Però, ripeto, si potrebbe fare in tanti modi. Come dicevano gli amici di sottosopra, certe cose, se non le sai, poi le subisci nell'invitro, no? Oggi, ma così era. Io vorrei fare una domanda. Prego. Tutto quello che ha raccontato, ma l'uomo moderno, cosa può fare? Cioè, noi... A livello individuale, non lo so. Lei ha raccontato una cosa bellissima, interessantissima. Io penso alla guerra, adesso c'è l'Ucraina. Noi sono qua, ma... La prima signora parlava dell'appiattimento dovuto ai mezzi digitali che fondamentalmente toccano tutti tutti. Noi pensiamo che magari tramite quelli siamo superinformati, quando in realtà non è vero. Come diceva raccontato lei. Cioè, la mega informazione, non è una bugia, è una balla. Ah, sì, assolutamente. Ma come diceva lei, di Matrix, una cosa che poi al fine è controllata anche quella. Non solo, ma sappiate, per esempio, che nel mondo della biologia i biologi si stanno ribellando dicendo stiamo per essere seppelliti dai dati, ma non sappiamo come metterli insieme. Cioè, varietà per interrelazione. Le nostre capacità cognitive hanno una tale quantità di quantità che qualitativamente non riusciamo poi tutta sta roba a tirar fuori dei disegni organici. Lei fa la domanda del che fare. Se ci fosse la risposta sarebbe... Se poi la sapessi... Io incentivo molto il lavoro che fanno loro di sotto sopra sin dalla loro nascita. Cioè, secondo me, la diffusione della conoscenza è la precondizione per qualunque cosa. Perché la storia dei movimenti sociali ci conduce ai numeri. Quanti siamo? E allora, quando si fanno queste chiacchierate in 10 un conto, in 50 un altro, in 500 sarebbe ancora un'altra. Poi quella è una precondizione per far nascere movimenti politici, eccetera. Però, come lei vede, anche nel movimento critico alternativo, ci si sveglia sei mesi prima delle elezioni, facciamo, facciamo, creano partitini, perché uno vuole tornare a far parlamentare, perché stava fuori fondazione comunista, è perché vogliamo fare. Eh, vogliamo fare. Allora, torniamo ai cristiani. Cosa facevano i cristiani? Andavano nelle catacombe, rischiavano la vita, andavano singolarmente, persona per persona, e gli hanno raccontato la rapa e la fava e hanno creato la più grande rivoluzione culturale degli ultimi mille anni. Prego? Non violenta. Ma guardi che è la stessa ricetta di Zbollah, è la stessa ricetta dei movimenti sudamericani. Cioè, lavorare con la gente, e una volta... La differenza può essere violenta o non violenta? La storia di segno di rivoluzioni violente... La conoscenza... No, certo, la conoscenza è non violenta. Io dico, bisogna lavorare come l'agricoltura. Cioè, noi veniamo, la modernità è ingegneristica, noi progettiamo cose, l'atur e i fei, il ferro, il chiodo, fammi costruire, tiriamo su. Gli agricoltori non tirano su gli steli, agiscono indirettamente sulle condizioni di possibilità, con cime, acqua, eccetera. Allora, noi dovremmo lavorare in maniera agricola, e quindi diffusione della conoscenza, discutere, portare le persone, evitare che arriva uno che parla per un'ora e un quarto, che però è anche... cioè, alla fine cognitivamente, che cosa assorbi, no? Magari è meglio in dieci costruire un articolo, un discorso assieme. Lui ci potrebbe raccontare delle cose sull'Africa che i miei numeri da soli non danno, no? Però allora ci vuole tempo, bisogna trovare altri modi. Però il terzo non c'è. Bisogna fare cose circolari, perché la geometria politica, la circolarità è democratica. e il triangolo è piramidale e elitista. E l'élite non è che ce ne siamo inventati noi, ci sono 5 mila anni, sono state religiose, militari, quasi sempre fatte da maschi, magari anche anziani, e quindi è proprio una struttura del sistema. Non è tanto che quelle... quindi dobbiamo combattere contro l'élite del sistema finanziario, che è una degenerazione di quello economico, che, come ha detto Carl Polany, è una degenerazione disembede della società. Però l'élite è anche, in termini proprio di sociologia dei gruppi, la storia ci dice che quando hanno cominciato ad essere in 40.000, 50.000, 60.000, si sono formate l'élite. E non perché avevano inventato l'agricoltura, c'era il surplus, come dicono gli amici marxisti. Va bene. Quindi che fare? Per esempio, diffondere conoscenze, di battere, di dare la gente a casa a chiacchierare, per esempio anche chiacchierare, condividere. Quanta gente sta male, si vergogna di dire che sta male? Ma cazzo, io leggo le statistiche dei medicinali, dei medici, sull'epidemia, ma addirittura l'OMS, c'è un'epidemia di depressione. Ma perché uno non ne parla? Siamo anche più soli. Siamo più soli, certo. Purtroppo. E c'è la vergogna della, Assolutamente. Stai sempre peggio. Dobbiamo essere tutti vincenti. Esatto, sono 20 anni, Oxfam tutti gli anni ti dice cose terrificanti, poi tu al massimo treggi, 996 pagine di picchetti, se te le sei lette, e non succede nulla. E ogni anno, oh, guarda, l'uno per cento è diventato più ricco. E niente. Ma ci hanno separato. Per cui, tornare, non so, io mi ricordo i femministi dei miei tempi, i gruppi di autocoscienza. E allora funzionavano. Cioè, vedersi e dire, oh, ma tu come stai realmente? Adesso ci remano contro. Quando ci si riprovano, i donne a fare questi gruppi, ci dicono che sono cose vecchie, passate, che siamo antiche. Ovviamente, ovviamente, io guardo, io ho anche il dito. Ovviamente, però, che è tutto risolto. Fa molta paura, fa molta paura, non solo il femminismo, fa molta paura alla discussione, parlatene, eccetera. Quindi, mi sembra che ci sia quella cosa di azzicchire, piuttosto di trova delle alternative di pensiero, c'è l'internet, eccetera, però la comunicazione, questa cosa qua, fa paura e mi sembra che è un sistema che vada, tenda a far fare il contrario. sistema è forte, è sempre forte, però voglio dire, c'erano momenti in cui si combattevano. Assolutamente, assolutamente. Guarda, io ne ho fatti una, perché c'entra in niente, perché è un'associazione che si occupa di epistemologia sistemica, però c'era un relatore che parlava in maniera molto competente di questioni ecologiche, un altro che parlava del problema regolatorio, regolamentatorio, eccetera, io facevo così, moriremo tutti, però c'era una bella atmosfera, la gente aveva voglia di discutere, di capire, allora dopo abbiamo cominciato a dire, ma potremmo vederci periodicamente, anche gli studiosi, anche gli studiosi, cioè noi, tra noi, ma non ho capito, cioè alla fine mimiamo gli stessi tipi di dinamiche che poi noi ci scriviamo al pippone sul neoliberismo, ma nella buona sostanza, no? Che problema c'è di metterci insieme a un economista? Gli economisti scrivono i libri dicendo che la geopolitica non esiste perché è una lotta tra capitali, ma è una cazzata, abbiate pazienza, cioè la guerra degli imperi origina da Sargon, per cui, no? Questo continuo letto di Procuste in cui noi vogliamo infilare, non so se conoscete la metafora, Procuste era una di queste bellissime cose dei greci, no? Un bandito che stava in montagna a un passo e tutta la gente che passava, se era esattamente lunga come il letto di Procuste di pietra, poteva passare, se era in eccedenza gli tagliava le gambe, se era più piccolo gli le stirava, no? E questa metafora a dire, se noi partiamo con degli a priori applicativi per dire io ho l'interpretazione del mondo e quindi taglio qua, taglio qua, questo poi manco lo sorbo perché l'ecologia non l'ho studiata, tatatatatata, è così noi non portiamo avanti la sfida di nuovo pensiero a un casino del genere, no? Per cui dovremmo anche noi mobilitarci forse un po' di più. E c'è ragione. È colpa di neve. Mi manca l'energia. Beh, oggi abbiamo mobilitato un po', Dan. Posso? Vai. Sì, bravo. Una cosa brevissima. Visto che in questa presentazione moriremo tutti. Chi prima chi dopo. Chi prima chi dopo. Io mi ricordo che quando è scoppiata la guerra in Ucraina a me veniva in mente il ruolo che l'Italia aveva rivestito a ritrovere diciamo si era assunta durante la guerra fredda come mediatrice tra l'alleanza atlantica e tutto il mondo del Medio Oriente così Andreotti che diciamo politicamente sempre è stato io non sono mai stato dalla sua parte però aveva aveva dato all'Italia come ministro degli esteri questa funzione no? Di dialogo con i paesi arabi. ora il punto è chiaramente questa cosa si è persa completamente ma si è persa per la nostra incompetenza o perché non possiamo più dire di no di fronte appunto dicevi che Mario Draghi era uscito pallido di fronte a un colloquio quindi è come dire non potevamo dire di no ecco perché si è persa la cosa è una nostra incapacità politica poi altra cosa la Germania ha avuto di fronte alle minacce degli Stati Uniti ha avuto comunque qualcosa in cambio no? come dicevamo prima produrre armi è un interesse economico dell'industria tedesca quindi alla fine hanno accettato di questa logica beligerante capitata dagli Stati Uniti in cambio di qualcosa noi l'abbiamo accettato in cambio di cosa no? quindi potremmo forse fare qualche tentativo di smarcarci un attimo di provare a dire attenzione noi con la Russia abbiamo un rapporto pluridecennale quindi magari possiamo anche provare è quello che timidamente ogni tanto cerca di fare caracciolo oppure stando magari a otto e mezzo no? in cui ricorda dice sì vabbè ma questi hanno qui tutte le basi perché noi siamo la porta aerei nel Mediterraneo varrà qualcosa no? per cui uno potrebbe avere io credo che sia comunque un doppio problema sia di decadenza culturale che di obiettiva decadenza di peso di peso politico che quindi poi non siamo in grado di esprimere una classe politica adeguata e tu guarda hai citato Andreotti al Mediterraneo guarda cosa è successo in Libia ma secondo te quando c'era Andreotti poteva succedere una cosa come quella che è successa in Libia? ovviamente no no? quindi i sistemi decadono tutti assieme non è che c'è una parte sì e l'altra no insomma noi siamo in un decadimento che sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista del nostro obiettivo peso e quindi anche di produzione di classe intellettuale e di classe politica è certo che potremmo avremmo delle carte no? da poterci giocare non dentro un disegno del genere la mediazione con la Russia no? perché il piattino è un altro insomma il trend è un altro e poi sì ci sono offerte che non si possono rifiutare che non sono offerte sono ordini io credo comunque che parte di queste cioè mi occupo di queste cose ma non è che cioè si legge molto quello che viene pubblicato anche dagli americani dal mainstream delle varie discipline coinvolte no? e c'è questo problema il posto che ho scritto per questa riunione qui si arriva a Paul Kennedy di ascesa e declino delle grandi potenze cioè tutto un discorso è un dibattito interno anche loro sono consapevoli lo stesso fatto che hanno dovuto annettersi l'Europa che comunque per loro avranno dei vincoli in qualche modo oltre a imporre dei vincoli però è così noi abbiamo perso sovranità anche in Europa cioè noi ci lamentiamo dell'Italia ma noi stiamo apprezzando a Polonia a di che? cioè non noi io e te cioè la Francia Macron la Germania cioè prima ne parlavamo come decidevano tutto loro e fanno quello che dice la Polonia perché la Polonia con gli americani e bla 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 quindi a punto di vista geopolitica allora una riflessione anche degli intellettuali non nostri che l'hanno fatto ovviamente ma andare lì a rinfacciare a dire ci hai raccontato questa stronzata del mercato della globalizzazione eccetera eccetera e nessuno si è preoccupato di produrre dieci armi in maniera da essere autonomi e non dipendere dagli americani o di fare una nostra geopolitica avete fatto gli accordi di Minsk e poi non avete perché non avete avvertito cazzo perché se la prendevi per tempo evitavi che no? perché ti dovresti mettere a discutere in televisione di tutto quello che non si è fatto di cosa hanno fatto gli americani nel frattempo eccetera poi arriva quella dell'istituto dagli affari internazionali poi vai sul sito dell'istituto d'affari internazionali ti scarichi lo statuto il bilancio e scopri che il 65% degli incassi proviene da enti e fondazioni estere allora quella signora dirige un istituto e va in televisione a parlare e il 65% del suo stipendio e della sua organizzazione è pagata da enti e fondazioni estere estere ti occupi di relazioni internazionali italiane ce l'hai nel nome e sei pagata il 65% dall'estero vorrei sapere da chi e va a fare dei discorsi per cui Orsino non può parlare perché non è mai andato in Ucraina bisogna essere andato in Ucraina per parlare dell'Ucraina cioè cose veramente bisogna conoscere Napoleone per parlare delle guerre napoleoniche è stata bandita la storia insomma la storia la storia la storia e la geografia alla London School of Economics da dieci anni hanno tolto gli esami di storia perché come diceva poi il buon Bayrock se vai a studiare la storia del libero mercato scopri che il libero mercato c'è stato 15 anni prima della prima guerra mondiale ancora si discute se è stato causa della prima guerra mondiale o cosa buonasera e già non funzionava allora lo dice Bayrock non è lo dice un marxista Lenin ma in questo c'è un evidente volontario evidente però se Putin qualcosa potrebbe trascinare in avanti perché come? dico se lui è stato il principale partner del gas in Europa cioè tutta la ballata dalle sanzioni noi continuiamo a portare anche la milione che va in Algeria diceva lei no noi adesso pare alla fine a Putin quanto gli conviene e perché Putin non poteva fare diversamente purtroppo bisognerebbe raccontare tutta la storia che cosa si stava che cosa si stava preparando in Ucraina e cosa significa questo comunque basta che prenda una cartina lei metta una rampa messilistica al confine nord-est dell'Ucraina prenda su Wikipedia la velocità di un missile prenda il corso per vedere e scopre che ci mette due minuti allora se lei ha un missile potenzialmente aggressivo a due minuti di lancio e ha la possibilità di buttarlo giù ma se sono tanti magari no e questo dal punto di vista strategico cioè queste sono come gli scacchi queste mosse poi non è che servono per fare quella cosa ma io una volta ho fatto quella mossa tu stai zitto stai zitto se io poi al polo nord vengo e ti butto giù una nave e poi dico mi sono sbagliato eccetera tu fai pippa non è che mi mandi 5 navi e inizi un conflitto capito si chiama grande scacchiera un famoso libro di Brzezinski perché ha molto dopo di delle tecniche anche degli scacchi quindi bisognerebbe essere molto bene informati di quali erano i sottostanti reali poi 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 chiaramente anche Putin ha fatto gli errori ma i russi per esempio non erano tutti d'accordo in questi anni quindi lui ha spinto molto per fare per avere buoni rapporti con l'Europa il problema è che l'Europa si è mostrata inaffidabile anche perché tu fai un accordo con uno e poi quello cioè la Merkel a noi la Merkel ci ha fatto venire l'orticaria per tante cose ma dal punto di vista geopolitico che gli vuoi dire perfetto no? oh non è che si è andata via la Merkel sono arrivati i verdi ah no adesso bombardiamo i russi poi nessuno che dica ma scusa la Merkel ma poi autocrazia ma la Merkel è stata primo ministro cancelliere più di Putin o almeno quanto più 18 anni se è una cosa del genere allora dice sì ma quella è stata rieletta vabbè ma anche lui è stato rieletto insomma sono tante le cose di tutte quelle materie che vi ho citato che bisognerebbe entrare un pochino più nello specifico poi vi posso dare il mio punto di vista ma mica è detto che sia quello giusto poi ognuno si dovrebbe fare il suo però la cosa inquietante è invece la grande superficialità e la grande un tanto al chilo col quale si sviluppa il dibattito pubblico e poi il giudizio c'è uno sblocco di emotività per cui la gente odia quello la valutitività Weberiana Weber diceva ok non saremo oggettivi però cerchiamo di non far pesare troppo no? le tinte della morale dell'etica dopo sì certo ma nell'analisi descrizione e no e quindi anche qui ci sono un sacco di contraddizioni da una parte e dall'altra però come dice lui ok noi noi non abbiamo né le contraddizioni né ci abbiamo non ci fa un armi a piatto e Caraccio dice certe cose perché in certi ambienti se parlate non so con la marina le sanno queste cose mica sono scemi no? pure loro studiano non fanno le cose studi strategiche hanno le navi tutto quanto solo che per esempio se ieri hanno deciso di comprare 170 missili dai francesi quello è spesa per la difesa che non va in ricerca nostra autonoma io venendo qua stavo leggendo il numero di lime sull'intelligenza artificiale non sono arrivato all'articolo ma pare che noi abbiamo un super computer a Bologna cioè quanto investiamo noi in ricerca invece che 2% delle spese militari noi dovremmo investire in ricerca e unirci creare tessuto con francesi tedeschi svedesi ma paradossalmente sono i militari in questo momento che sono quelli che stanno tirando per il freno perché leggevo perché sono i primi che dovrebbero esatto ma è il contrario è quello che pensiamo perché c'era il generale della Folgore che diceva stiamo rischiando di entrare in un conflitto in cui non centriamo niente per il quale non siamo assolutamente preparati certo quindi in realtà i militari che sono quelli che hanno come dire la conoscenza della guerra sono i primi che stanno dicendo il problema è che danno la voce a chi? ai politici che stanno svolgendo l'agenda di chi? esattamente quindi è questo di chi fai io devo dare un freno a tutto ciò ma più che altro perché dovete andare a mangiare grazie sono le 7.20 lo faccio per voi ma io grazie mi ringrazio